Le proteste non mancano neanche da parte dei detenuti della casa circondariale di Agrigento, che da qualche giorno si fanno sentire a gran voce, anzi a gran botti di stoviglie. Nei giorni scorsi infatti si è registrata una manifestazione di protesta da parte dei detenuti nel carcere di Contrada Petrusa. Molti reclusi hanno dapprima rifiutato di acquistare generi di prima necessità all'interno dello spaccio al penitenziario. Una volta nelle celle poi hanno anche preso in diverse occasioni del giorno e della notte abbattere le casseruole usate per cucinare contro le sbarre. Protesta civile decisa per attirare l'attenzione dei vertici del carcere sull'eccessivo caldo che in questi giorni si registra all'interno delle celle. La direzione ha subito apportato qualche correttivo. Le celle vengono chiuse con la porta blindata non più alle 21 ma intorno all'una di notte per consentire una maggiore aerazione. La situazione però è destinata ad appesantirsi ulteriormente con l'avanzare della stagione estiva e questo non rende più facile il lavoro della polizia penitenziaria ed i funzionari che operano nel penitenziario. Grazie. Grazie. Grazie.